Buona giornata. È proprio vero che a volte i nostri toni di voce sono o alti o bassi a seconda di quello che viviamo, così come possiamo viverla anche questa giornata. Ma è anche vero che se riconosciamo di essere nella verità, di avere la ragione, di avere sempre messa alla prova e nel confronto, non c'è bisogno di gridare. È vero, chi ha ragione non ha bisogno di gridare. Perché? Perché le cose si mostrano per quello che sono. Loggettivamente le cose che vedi non c'è bisogno di urlarle, non c'è bisogno di affermarle, si affermano da sole. Io posso solo sottolinearle, così come nella semplicità e nella realtà di quello che vedo e che so. Le foglie sono verdi, sì, non c'è bisogno di metterci tutta la nostra foga per definire un qualche cosa che è. E chi lo sa, nel riconoscere i gesti, le modalità di affetto e anche il modo con cui siamo chiamati a voler bene, non c'è bisogno né di ostentare, né di urlarlo, né di gridarlo. Perché? Perché si mostrerà da solo. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata.